ciao da filippo giannini di trading facile ho il piacere di invitarti al prossimo webinar gratuito in collaborazione con il broker active trades l'appuntamento è per lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 18 parleremo dell'importanza del money management nel trading quali sono gli errori da evitare e quali invece le regole pratiche di buona norma da mettere in pratica per avere successo sui mercati mi raccomando non perdere questa opportunità iscriviti subito riserva il tuo posto ora ci vediamo lunedì 17 gennaio alle ore 18